Sembra che ad ottobre arriverà il vaccino e quindi sarà un vaccino modulato su Omicron e quindi un vaccino che dovrebbe garantirci sicuramente di più di quello attuale che sappiamo è modulato invece disegnato sul virus di Wuhan, quindi un vaccino un po' vecchiotto verso cui gli Omicron riescono ad averla vinta da loro e quindi il nuovo vaccino sicuramente ci renderà tutti più protetti nei confronti anche delle nuove varianti.